Noi vogliamo andare al mare e ci ritroviamo a fare queste esplorazioni qua Buongiorno mondo, ho fumato un bob, poi sono collassato ed ora eccomi qui Guardate che ho trovato a fianco a me Ho fame, cornetto al cioccolato tattico e due cotolette, così è la cazzo di cane Oh man Voglio una canta Minchia fra Ci roppocate il passo con me del merito Succhiatemi il cazzo Che schifo cazzo Fra, guarda qua dentro, è una casa Ci sta un botto Cioè però che figo, noi vogliamo andare al mare e ci ritroviamo a fare queste esplorazioni qua E qua c'è un'altra spiaggia Che c'è signori Dove cazzo sei finito, fra? Azione Sono passato un paio d'ore e sono appena rientrato Mi è arrivato un pacchettino speciale Vediamo cosa c'è dentro Non ho la minima idea Una maglietta Che cazzo è? Un unicorno fattone Poi vi lascio i link in descrizione Ma se un giorno facessi uscire le magliette di fattanza Della droga No, non è vero Del CBD Au Viva il CBD Lemonades Lemonades al CBD Visto che sono gentile e vi voglio bene Ve li regalo a voi Nuovo giveaway, fanculo L'avevo già annunciato su Telegram I vincitori saranno due Al primo posto potrete vincere questo fumo pakistano Insieme a questa Lemonades CBD 23% Invece al secondo posto Un grammo di blu tangi Tangi? Tangic? Se volete avere la possibilità di vincere queste cose È semplicissimo Ecco cosa dovete fare Uno Lasciare mi piace a questo video Essere iscritti al canale Seguirmi su Instagram Luca strattino bassostone Ed infine scrivermi in DM Voglio la fonte di piacere I risultati usciranno nelle mie storie Instagram Appena arriveremo a 30.000 follower Ringrazio l'azienda che mi ha inviato queste cose Vi lascio i link in descrizione Tanto amore Allora abbiamo un problema Si rolla un persol O un sistema Ah Ok alla fine ho finito il sistema persol Sto andando verso casa del mio amico E non so ancora cosa faremo Che la fattanza sia con voi Siamo quei soci Skate e motorino Vediamo di non farsi uccidere Dai molto più piano Vai Molto più piano Molto più piano Sì sì Piano piano così Ancora un po' più Un po' di più Dammi un po' di gas Piano sì Un po' di gas Piano 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 Sì 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 Oh No No Ah 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 Temi aperte come le vostre madri Dovessi chiedere a lui Secondo me Ricarica prima di ripartire Vai 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 Adesso 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 mi si c'è la macchina Vai 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 Oh 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 Man Bro E vai 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 più forte Vai più forte Che aviam Più forte Più forte That's my boy That's my boy That's my boy Ok Ci siamo Non so se si vedrà mai qualcosa Ma la missione è scalare questo palazzo abbandonato Oh 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 Non lo so Ciao Non lo so Ci sono le scale in questa zona Andiamo a vedere quanto c'è qui qua Eh Non lo so Signori Come stai la mia Ah no Sì tipo da qua Tentiamo qua Poi sul tetto Casco di protezione ci serve Oh Ti puoi rampicare lì sopra c'è il tetto Eh Però come tazzo di arrabbi? Ha quattro zampe Vado io? No Cazzo Cazzo di arrabbi in braccia Capito? Sulla sparta Ok Io Ce la puoi fare? Vai Proveriamo Sì Andati Dai Dai Pronto? Vai Ok Alzati un po' Spingi con le gambe Spingi con le gambe Capasare il muro Buttavi sulle gambe Aiutatemi Ci sentitevi Ci sentitevi Ci sentitevi Poca 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 cazzo ci metto poi a arrivare spero si vedrà qualcosa ma c'è una gru immensa saliamo la gru ok noi scendiamo la gopro sta morendo vediamo se salire sulla gru ragazzi stiamo salendo o la gopro al loop per cento vediamo cosa ne esce pure vediamo 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 oh my god oh my god oh my god oh questo è questo si che è strong porca troia fa un culo e panca bestia brutti bastardi vi voglio bene che la fatanza sia con voi e con il vostro spirito vado a fumare con l'asso zucchiatemelo vediamo